I prodigi della politica a Catanzaro si trasformano in miracoli e è decisamente un fenomeno fuori dall'ordinario che sezioni di partito, quello democratico, pur non disponendo di sedi in cui riunirsi e discutere, risulti avere però un buon numero di tesserati e iscritti. Dove si riuniscono i tesserati? Quando ci sono delle riunioni importanti, tipo il congresso, qualche riunione importante, al bar, in qualche ufficio pubblico. Il circolo di Ponte Grande nella zona nord di Catanzaro conta 120 tesserati, ma spostandosi a sud nel quartiere Marinaro la situazione cambia poco. La sezione del Partito Democratico aveva sede in uno stabile alle spalle di Corso Progresso, poi ospitato nei locali del dopolavoro ferroviario. Qui si riuniva il Partito Democratico? Quanto tempo fa? Sì. E da quanto tempo non si riunisce più qua? E saranno un paio d'anni. A novembre la segretaria di circolo ha gettato la spugna di missioni per motivi professionali, ma già negli ultimi periodi le riunioni di partito languivano. Due o tre persone al massimo si presentavano al dopolavoro ferroviario, ma sulla carta il circolo continua a contare 180 tesserati. Posso dirlo prendendomi la mia responsabilità che le tessere che sono state costituite negli ultimi anni sono completamente false. Le tessere reali all'interno del Partito Democratico non superano il 15%. Fabio Celia è stato eletto consigliere alle ultime elezioni comunali nella lista fare per Catanzaro, che fa capo a Sergio Costanzo, e nella storia del Partito Democratico locale vanta un primato. E' l'ultimo segretario cittadino eletto, si era nel dicembre del 2007 e ancora oggi, a distanza di 11 anni, l'incarico non è stato più rinnovato nella città capoluogo. Gli unici posti dove non si riesce a discutere sarebbero le sedi politiche o con i superiori, quindi ho una grande stima, un grande apprezzamento per il lavoro che viene fatto nei circoli. Guai a dire questo, guai a toccare i circoli. I circoli vanno aperti però. Su sei sezioni di partito sono soltanto due a Catanzaro, quelle effettivamente attive o quasi. La prima è a Santa Maria, due passi da Viale Isonso, guidata dal segretario sfiduciato Maurizio Caligiuri. Tra le motivazioni della richiesta del mio allontanamento c'era proprio il fatto che avevamo trasformato il partito in una sorta di centro servizi, per cui io mi sono limitata ad aggiungere centro servizi ai cittadini. Era quello che noi speravamo che diventassero le sedi del partito democratico. Una divergenza di vedute all'interno del partito, pagata a caro prezzo, risolta in modo non proprio democratico. Il 6 febbraio di quest'anno ho ricevuto una querela dal mio segretario regionale, l'onorevole Magorno, nonché attuale senatore della Repubblica, membro della Commissione di Controllo sui Servizi Segreti. Ho avuto una querela per percosse, minacce e diffamazione. Ovviamente io non ho mai alzato le mani a Magorno, ci sono decine e decine di testimoni. Tra le motivazioni Magorno dice che questo mio atteggiamento ha avuto il 2 febbraio, non gli ha permesso di fare la campagna elettorale. Quasi la sconfitta del PD era dovuta a me che avevo semplicemente manifestato un dissenso con la linea politica e pensare che tutta una macchina della giustizia si sia mossa contro di me soltanto perché ho espresso del dissenso all'interno del partito democratico non è una cosa tanto piacevole come cittadino. La seconda è lo storico circolo del centro Lauria, ospitato in uno stabile con vista su Corso Mazzini fino alle dimissioni dell'ex segretario Pasquale Squillace, assorbito alla regione immediatamente dopo la plateale presa di posizione. La sede ufficiale oggi risulta in via San Nicola, senza tuttavia apparire neppure sul citofono. 200 sono gli iscritti del circolo. Luana Costa per la Cineus 24.